Nooo, che s... Cavani! Paolo ti ricordi il mio cross da C2C Eh ma... Stira! Stira! Ehi, che cross potentissimo! Ragazzi sono in posizione da ancora mezzo, inzio su uno Mi putto in mezzo Ehi, niente, non ci arriverà Passa, passa Niente Passa, passa Niente Che te fa Kambagnaro? Kambavaro Ma la chiamare via 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 via? Eh si si la chiamare via holdervi Nabbo! Nabbero! MA CHE CAZZUUU!! Lawrence che se ti vivo! Anche in piedi ho chiamato per fare in genere puro non onnava, eh? Ah 다 ciasi! Sì